Da dove iniziare a costruire un trading system? Dall'analisi della serie storica su cui vogliamo lavorare. Dentro la Strategy Lab esiste un modulo chiamato Data Analyzer che abbiamo creato proprio per aiutarti ad analizzare in pochi minuti la serie storica su cui vuoi lavorare, per individuare se esistono inefficienze, edge, vantaggi che puoi sfruttare direttamente poi codificandoli in un trading system e testandoli con la piattaforma che vuoi, che sia TradeStation, che sia Multichart, che sia ProRealTime, quello che ti pare, insomma, devi essere tu in grado poi di codificare questa strategia e di testare quelle regole che Data Analyzer ti avrà aiutato a individuare, a scovare. La prima cosa da fare che devi sapere su Data Analyzer è che Data Analyzer può importare, può accettare qualunque tipo di serie storica dal mercato azionario alle commodities, al mercato valutario, fino anche al bitcoin o altre serie storiche che può interessarti a analizzare per capire che natura hanno, che carattere hanno, che inefficienze possono offrirti da poter sfruttare. Il formato che accettano attivamente Data Analyzer è il formato che esporta a TradeStation, quindi se io apro in questo caso il cotone 30 anni qua su TradeStation, se io vado su View e poi vado su Data Window, ho la possibilità qua con il mio dischetto di andare a salvare un file txt sulla mia macchina, vedi, formato txt, con la serie storica del cotone o quel mercato che mi interessa di riferimento. Abbiamo scelto di predisporre già le cose direttamente su piattaforma TradeStation, in quanto TradeStation fornisce anche dati storici che vanno indietro anche fino a 30-40 anni per i future, ma così anche per altri mercati di buona qualità, ed è forse il rapporto migliore che troverai mai in giro qualità-prezzo per dei dati storici del genere. Esistono altri fornitori dati un pochino più costosi, magari anche di qualità più elevata, penso alla IQ Feed, piuttosto che i Signal, piuttosto che sul mercato italiano che abbiamo FIDA, sono tanti fornitori dati che puoi utilizzare. Sappi che DataLyzer, per come è stato progettato, ti permette di andare a caricare direttamente, qua cliccando su Launch, la serie storica che hai esportato con TradeStation. E cosa succede se invece la serie storica che tu utilizzi di un altro fornitore non è già formattata come richiede TradeStation, con delle label in alto che identificano i vari campi, quindi Date, Time, Open, High, Low e Close. Se non è formatato in questo modo, vediamo cosa succede in questa release di DataAnalyzer, andando a caricare direttamente, guarda, prendo una serie storica un pochino strana, che è questa. Quello che fa, vedi, è comparire, compare questa finestrella intermedia che ti dice, ehi, ma come sono strutturati i dati che vuoi darmi in pasto? Io non vedo etichette qua in alto che possono guidarmi nell'importazione dei dati, quindi devi dargliele tu, quindi devi semplicemente accettare se il formato che ti propone lui è corretto, quindi se secondo te questa è effettivamente la data relativa ad ogni candela che stai cercando di importare, ogni barra che stai cercando di importare di quella serie storica, se è corretta la marcatura temporale e se è corretta anche la ripartizione Open, High, Low, Close. Hai la possibilità chiaramente qua di intervenire mettendo il separatore più indicato per la data piuttosto che per l'orario e piuttosto che andare a indicargli le colonne e come devono essere strutturate quel formato data, eccetera. Questa è una delle novità che abbiamo introdotto in questa release del Data Analyzer proprio per permetterti e per guidarti nell'importazione di altre serie storiche prese da altri fornitori. Se hai già una Counter Station, questo non ti serve, basta che con la procedura che ti ho fatto vedere carichi tutti i dati che vuoi sul time frame che vuoi, perché Data Analyzer può analizzare dati su candela giornaliera, ma anche su candela a un minuto. Sta a te dopo andare all'interno della piattaforma a capire qual è il livello di analisi che vuoi effettivamente poi adottare per quel tipo di dati. Chiaramente se siamo su dei dati a time frame a 5 minuti piuttosto che a un minuto la tua analisi sarà limitata a un certo numero di candele indietro su quel time frame. Se importi dati giornalieri ad esempio potrai andare indietro fino a 30-40 anni e sicuramente questo magari diventa il formato di quello prediletto se vuoi fare analisi basate sulle stagionalità. Vediamo che tipo di analisi possiamo andare a condurre direttamente con il Data Analyzer. Facendo launch abbiamo la possibilità di caricare una delle serie storiche che abbiamo già esportati o qua ne ho esportate alcune. Vado a prendere il crude oil così poi ti faccio vedere direttamente anche un trading system che abbiamo realizzato proprio qua sul crude oil. Prendo un crude oil esportato a 60 minuti come tipo di serie storica. ne ho una anche a 30 anni se vuoi. Questo poi in realtà partirà direi dal 2006 quindi sono gli ultimi 13-14 anni. Comunque verifichiamolo e carichiamoli insieme. La prima cosa che devi fare una volta che hai caricato la serie storica su Data Analyzer sarà dare a Data Analyzer alcune informazioni per aiutarlo a effettuare meglio i conteggi che adesso vedrai effettuati proprio sul crude oil. La prima cosa che dovrei indicare una volta caricato alla serie storica del crude oil su Data Analyzer è l'orario di chiusura delle contrattazioni. Qui stiamo ragionando sulla time zone dell'exchange e quindi parliamo del NYMEX a New York e quindi dovrai indicargli qua alle ore 17 come la chiusura della sessione per poi ripartire alla mezzanotte nostra italiana. Quindi le 18 con la candela che poi si chiuderà alle ore 19. In questo caso la candela che chiude la sessione è quella delle 17. Dovremmo indicare 1000 come Big Point Value. Non c'è bisogno di fare operazioni sulla scala, sugli assi. È già una scala in questo caso che possiamo accettare e nonostante stiamo analizzando il grafico del Future Continuous in virtù di queste rettifiche legate alla rettifica in questo caso per Absolute Difference di questa serie storica Continuous qui non è necessario andare ad agire sugli assi con questo Shift Up in quanto non va mai sotto zero. Su alcuni strumenti, penso che mi viene in mente la soia in virtù di queste rettifiche che vengono fatte per creare il Future Continuous in alcuni momenti storici del passato potresti vedere quella serie storica andare sotto zero. In questo caso il mio consiglio è andare ad aggiungere una grandezza ad esempio 1000, 100, quello che vuoi per portare sopra lo zero l'intera serie storica e in questo caso permettere poi a Data Analyzer di effettuare i calcoli correttamente. Le sezioni di Data Analyzer le hai già probabilmente viste, analizzate in qualche video precedente ma vado rapidamente a riepilogartele. Esiste una sezione, in questo caso questa, dedicata all'analisi di Bias durante l'evoluzione della settimana quindi vedi che da chiusura a chiusura esiste un bias ribassista quindi una tendenza ribassista molto forte il lunedì, ribassista il mercoledì. Potrei effettuare un'analisi anche non solamente da chiusura a chiusura ma ad esempio da apertura a chiusura quindi solamente l'analisi che si sviluppa nella fase in cui il mercato è aperto e attivo. Nel caso del crude oil è fermo solamente per un'ora al giorno ma se pensi ad alcuni future che invece sono per la maggioranza del tempo chiusi quei mercati allora può essere interessante andare a sdoppiare questa analisi. Penso al FTSE BIM italiano piuttosto che al mercato azionario americano che invece è aperto per una finestra più breve rispetto a quell'overnight in cui è chiuso quel mercato. Quindi in questo caso andrei ad analizzare cosa succede da una chiusura all'altra piuttosto che dall'apertura alla chiusura di quella giornata borsistica qui cambia veramente poco sul crude oil. Altra cosa interessante è poter analizzare cosa succede dalla chiusura di una sessione alla riapertura della successiva e in questo caso vedi che sul crude oil esiste un bias che è un sistema abbastanza forte fra la chiusura del venerdì sera e l'apertura, la riapertura dei mercati domenica notte. Questo è quello che emerge, quello che si vede qua direttamente da questa analisi a colpo d'occhio. È possibile anche ripetere questa stessa analisi ad esempio fatta per l'orario del giorno vedi che il crude oil ha un bias ribassista nella mattina americana e rialzista nella fase pomeridiana. Poi vedremo come fare per raffinare un po' di più questa analisi legando le due informazioni legate alla fascia oraria e legate al giorno della settimana fra un attimo nella sezione che si chiama Seasonal Analysis. Esiste la possibilità di osservare e individuare dei bias legati al giorno del mese quindi se fosse il mercato azionario osserveresti un bias rialzista negli ultimi giorni del mese nei primi giorni del successivo ribassista invece in altri momenti del mese il crude oil di nuovo anche in questo caso può darti alcune indicazioni qui ci sono alcune indicazioni che puoi leggere, non sono chiarissime però per alcuni strumenti questo può essere comunque un'analisi comunque utile. Esiste anche un'analisi che posso fare su base mensile quindi un pochino più dilatata nel tempo dove vado effettivamente a vedere se esistono delle tendenze rialziste o ribassiste per i vari mesi dell'anno. Il grafico che vedi qua sotto non fa altro che riportarti quello che è accaduto nelle singole annate quindi il mese di febbraio è un mese rialzista ma cosa è successo nelle varie annate? Beh è successo quello che vedi qua quindi avrei avuto una, due, tre, quattro annate che hanno chiuso effettivamente il mese di febbraio a ribasso e le altre invece a rialzo ottobre è un mese ribassista però vedi che volatilità che c'è, che dispersione c'è e poi a questo punto arricchire l'analisi andando a plottare anche le deviazioni standard quindi per andare, sdoppiando qua gli assi, vedi per andare a capire effettivamente dove c'è maggiore variabilità avrei potuto anche analizzare la serie storica presa in esame in questo caso del crude oil da un punto di vista statistico quindi per capire effettivamente se quella serie storica ha un carattere maggiormente trend following piuttosto che un carattere invece maggiormente mirverting questi due test statistici, il primo è un test di trend stazionarietà è il classico augmenti di K-Fuel il secondo invece è il calcolo dell'esponente di AST questi due test statistici vanno a darmi indicazioni molto precise sulla latura di quella serie storica quindi su quale tipo di approccio dovrei tenere quando voglio costruire un trading system su quella serie storica se andare a cercare di operare con delle condizioni di ruttura breakout piuttosto che invece operare su una mir reversion che invece è tipica caratteristica magari di quella serie storica e qui leggo in questo caso sul time frame a 60 minuti che ho caricato una tendenza da parte del crude oil a lavorare a rispondere meglio a logiche breakout che non mir reverting ma queste indicazioni possono variare cambiando l'orizzonte di osservazione quindi su un grafico orario potrei avere questo tipo di caratteristica su un grafico daily un altro tipo di carattere su un grafico a 5 minuti un carattere diverso ancora data analyzer vedi che in un secondo caricando la serie storica ti può già dare indicazioni di questo tipo se vuoi approfondire meglio come leggere questo tipo di grafici come andare magari un po' più in profondità anche sul calcolo di questi test di trend stazionalità piuttosto che il calcolo dell'esponente di AST qual è il vero significato rispetto a questa linea che abbiamo demarcato qua di 0,5 dunque ciò che sta sopra e ciò che sta sotto a 0,5 ha un significato ben preciso beh sono cose che puoi approfondire un pochino meglio nei corsi che teniamo periodicamente come QT Lab legati in particolare al percorso Trading System Academy puoi cambiare anche periodo di osservazione vedi quindi potrei fare riferimento alle ultime 1.320 barre alle ultime 790 barre e così via e avere chiaramente anche poi indicazioni differenti per questo test calcolato chiaramente a finestra scorrevole questo è il numero di barre a finestra scorrevole su cui vado a calcolarlo quello che forse è la parte più interessante di questa piattaforma è questa che corrisponde un po' alla linguetta Season Analysis che è anche quella su cui abbiamo fatto maggiore lavoro nelle ultime settimane per aggiungere, per implementare altre funzionalità questa già esisteva ed è la classica analisi di stagionalità su base annuale quello che tu vedi qui rispetto alle 14 annate ne ho caricate poche ma era una serie storica a 60 minuti quindi per andare più indietro nel tempo magari potrebbe essere il caso di andare a fare riferimento a serie storiche che vanno magari a recuperare il dato di chiusura di fine giornata sul pit quindi serie storiche daily che vanno indietro anche fino a 30-40 anni ma in questo caso per poterti mostrare un po' le potenzialità di questa piattaforma ho preferito caricare una serie a 60 minuti e farti vedere anche il tipo di analisi più mirata, più granulare che si può fare su candele più piccole, più brevi che non quella giornaliera fra poco capirai il perché quando andremo a effettuare questa analisi chiamata intraday seasonal quindi la stagionalità infrasettimanale per adesso limitiamoci la classica stagionalità, quella annuale qui vedi che ho flegato show all data quindi in questo caso mi riporta la classica tendenza la tendenza media dei prezzi registrata su base annuale quindi vedi in ogni settimana dell'anno qui sotto c'è già raffigurato il numero di rilevazioni positive e negative per ogni settimana quindi la prima settimana dell'anno vedo che c'è un certo equilibrio fra il numero di settimane positive e quelle negative la seconda dell'anno sono invece di più le settimane negative di quelle positive così come la terza questo definisce poi una tendenza ribassista o rialzista dei prezzi questo in realtà non fa altro che contare il numero di settimane chiusa rialzo o ribasso per capire realmente come si va a costruire questa tendenza rialzista piuttosto che ribassista dei prezzi dobbiamo andare a cambiare il grafico qua sotto e mettere average amount average amount mi dà un'indicazione di quello che è stato settimana per settimana durante l'anno il movimento medio e la tendenza media qui lo vedo graficato, qui lo vedo invece espresso in quantità di settimana in settimana di variazione che c'è stata qui vedo che c'è stato in questo periodo dalla settima settimana fino alla sedicesima settimana dell'anno vedo che c'è effettivamente una tendenza dei prezzi a salire mediamente quindi quando vado a osservare il movimento medio dei prezzi vedo che il più delle volte i prezzi tendono a registrare in media una variazione positiva, la vedo anche tradotta qua sul grafico fra poco andremo a capire come poter misurare l'affidabilità di questo movimento di questa tendenza media rialzista stagionale che si appare qua davanti a me insomma 4.48 in un minuto abbiamo già individuato quindi una prima stagionalità rialzista e un'altra qua centrale qua nel mese luglio-agosto ribassista e un'ultima invece ribassista qua a fine anno però dobbiamo capire quanto sono affidabili queste finestre stagionali perché non è mica detto che una tendenza media effettivamente sia figlia del fatto che in queste 14 annate che ho preso in esame io abbia osservato in tutte queste 14 annate un movimento a rialzo piuttosto che a ribasso e invece che non sia figlia questa tendenza media rialzista magari di un paio di annate fortemente rialziste e di altre 12 annate invece molto fiacche, laterali beh quella non sarebbe una tendenza stagionale così interessante da sfruttare perché sarebbe stata figlia di solamente un paio di annate particolarmente favorevoli e di tante annate piatte un po' anonime quello che voglio cercare io e fra poco vedremo come data l'Aeser può aiutarmi a individuarlo è proprio una tendenza media dei prezzi a salire piuttosto che a scendere ma che abbia un certo numero di occorrenze concordi a quella tendenza quindi che se di queste 14 annate io vado a guardarmele tutte quante beh io vedo che magari per 12, 13 o 14 annate di quelle osservate i prezzi sono sempre saliti piuttosto che in questo caso sono sempre scesi quindi voglio cercare una certa concordanza nel risultato da un anno all'altro io qui lo posso analizzare vedete su base dell'intero campione che ho caricato quindi le mie 14 annate ma avrei potuto anche effettuare beh potrei controllare e osservare quello che sta accadendo quest'anno in questo caso ho attivato la flag show last year che sarebbe l'anno in corso qui i dati ce li ho fermi grossomodo a metà settembre quello che posso fare per rendere più leggibile il tutto è fare tasto destro qui e poi dirgli di spostare sul secondo asse questa nuova informazione che ho inserito per renderle più facilmente confrontabili adesso vedi che sono diventate le due linee più confortabili più comparabili come vedi l'andamento dei prezzi anche in questa annata del crude oil rispetto alla sua tendenza media beh sembra insomma ricalcarlo abbastanza bene abbastanza fedemente posso analizzare una singola annata ben precisa questo che vedi in blu è una specifica annata che sto analizzando in questo caso è il 2015 è scritto qua dove c'è years back quando io seleziono show single year quello che vedo qua è l'annata riportata qua avessi voluto vedere come era andato ad esempio lo scorso anno beh avrei dovuto semplicemente muovere questo serettore per arrivare qua al 2018 che è l'ultimo anno l'anno scorso che si è concluso quindi l'anno completo che ho prima di quest'anno che è il 2019 che sono fermi invece qua a settembre avessi voluto osservare cosa accadeva supponiamo nel 2010 bene questa linea blu è quello che è accaduto nel 2010 una cosa interessante che abbiamo aggiunto al data analyzer è la possibilità di andare adesso tiro un po' di linee lasciamo solamente guarda quella la tendenza media storica una cosa che abbiamo aggiunto è la possibilità di osservare tutte le le singole annate quindi quelle che abbiamo chiamato componenti di questa tendenza media quindi le singole annate che hanno creato questa tendenza media quindi queste 14 annate si può evidenziarlo quindi in questo caso show component io qua vedo tutte le varie annate chiaramente non riesco a esaminarle in questo caso una per una e capire di che anno stiamo parlando per poterlo fare devo andare a scegliere la singola annata e vedi che andando a muoverle quello che io osservo è che ciascuna di queste linee grigie si colora poi di blu perché sto selezionando scrollando le varie annate quello però che è interessante qua che cosa è invece? è la possibilità di individuare intanto un'annata selezionata che è questa questa highlight è il 2018 ed è quello graficato qua in rosso quindi posso andare direttamente a vedere come è andata una singola annata ma la cosa divertente è che mi permette già data analyzer di capire qual è stata l'annata più correlata a quella in corso in questo momento quindi l'anno con la maggior correlazione esibita fino a questo momento è stato il 2015 per le annate che ho caricato che sono appunto le ultime 14 annate ed è quelle in verde che mi fa vedere qua sotto quindi se volessi avere qualche riferimento per capire effettivamente cosa dovrei aspettarmi da qui al futuro per l'annata in corso in questo caso sarebbe stato il 2019 eccolo qua questo è quello che è l'andamento grafico dei prezzi fino a che ho caricato io la serie storica bene qual è l'annata che ha esibito di queste 14 la maggior correlazione a quella in corso beh è proprio il 2015 che vedo graficato in verde qui sotto questa è una prima cosa che abbiamo introdotto ci sono persone che guardano effettivamente analizzano e guardano le stagionalità andando a capire cosa è successo nell'annata più correlata da qui in avanti quindi se in quest'annata in questo grafico che vedo verde i prezzi qua sono scesi ho un'indicazione che mi dice che la mia stagionalità ribassista che si sta aprendo qui nei mesi di ottobre novembre e dicembre beh potrò cavalcarla con maggiore fiducia perché vedo che l'annata più correlata effettivamente è scesa anche appunto in quell'anno che era il 2015 un'altra cosa che abbiamo aggiunto oltre alla possibilità di graficare le singole componenti è quello di andare direttamente a isolare le stagionalità più efficaci com'è che si fa quelle più affidabili com'è che si fa basta selezionare show and years in questo caso ora posso eliminare il show all data e posso anche andare a scegliere quanti anni voglio andare indietro per analizzare la mia stagionalità se voglio prenderli tutti beh dovrò andare a caricarli tutti a 14 se ne carico 14 ottengo il grafico la tendenza media quella viola che avete visto prima esattamente la stessa però mettendo show and years quello che succede è che si abilita e si attiva questo menu qua sotto questo menu qua sotto mi permette di andare ad analizzare l'affidabilità di una tendenza stagionale se io vorreste ad esempio scremare una finestra stagionale che ha avuto il 65% di significatività in questo caso quindi se nel 65% delle annate che ho riportato effettivamente ho visto i prezzi salire non mi importa di quanto però io voglio che nel 65% dei casi quindi il 65% di queste 14 annate io abbia visto i prezzi in questo caso salire piuttosto che scendere posso definire una certa magnitudo di salito o discesa un certo movimento medio percentuale di salita e discesa ipotizziamo di fermarci a un 3% di movimento percentuale di salita e discesa e posso definire la mia window size quindi la mia finestra in giorni di calendario quindi se io metto 30% sto indicandogli che voglio cercare una tendenza stagionale dove ho registrato in media un movimento di almeno il 3% nel 65% delle annate concordi su una finestra che sia almeno 30 giorni quindi questa vedi che è una finestra che è lunga almeno 30 giorni questa qua colorata di verde dove c'è stata una variazione percentuale maggiore almeno del 3% e il numero di annate concordi è stato almeno un 65% di queste 14 prese in esame questa è una finestra ribassista dove di nuovo il movimento che c'è stato medio è stato di almeno 3% la finestra temporale è stata di almeno 30 giorni e con un numero di annate concordi pare 65% se voglio diventare più selettivo e voglio aumentare il numero di annate concordi se passa un 70% vedrò che alcuni andiamo 75 questo è un 80 con l'80% vedo che sono spariti i segmenti rossi di prima l'unica annata che rimane ancora qua affidabile su cui posso contare sono 80% di annate concordi quindi un 80% di annate in cui i prezzi sono saliti non mi importa di che ammontare di che magnitudo ma sono saliti l'80% l'unica che sopravvive è questa qua sempre il 3% il movimento medio e 30 giorni la mia finestra temporale potrei scendere a 20 giorni e vedere se effettivamente era troppo lungo indicare quei 30 giorni potrei andare ad esempio a 40 giorni e magari chiedergli ecco qua con 40 giorni recupero anche una finestra ribassista qua nella seconda parte del grafico perché probabilmente quel 3% che io chiedevo di movimento medio con 30 giorni era un pochino troppo tirato con 40 giorni o qualche giorno in più per cercare di esibire quel tipo di tendenza di movimento medio esiste la possibilità qua di flegare una voce che dice vai a misurare la significatività sulle singole componenti e questa è un'ipotesi che noi possiamo adottare per analizzare la finestra stagionale molto più restrittiva se io la fleggo vedrai che sono sparite tutte le finestre stagionali non ci sono stagionalità che corrispondono a questo tipo di caratteristica qual è il significato di significance on components beh in questo caso io quello che sto facendo è andare a richiedere ad adatta analyzer di evidenziarmi se esistono delle finestre stagionali qua sul grafico su queste tendenze medie dei prezzi dove l'80% delle annate di queste 14 annate abbiano in ogni caso in ogni annata registrato un movimento di almeno il 3% su una finestra temporale di 40 giorni quindi non è più la tendenza media del 3% della media ma diventa la tendenza che io devo osservare da ogni singola annata quindi mettendo questo flag significance on components io non mi accontento più di trovare la maggioranza delle annate positive e poi quando analizzo la media vedere che il movimento medio deve essere maggiore del 3% ma io qui voglio andare a esaminare ogni singola annata e voglio vedere che i prezzi del crude oil in ogni singola annata o meglio nell'80% nel 60% nel numero che indico qua di queste annate siano saliti di una certa percentuale ma ogni volta non mi basta più la tendenza media ma voglio vederlo invece in maniera puntuale quindi riportiamo magari un valore un pochino più ragionevole riportiamolo al 65% mettiamo magari una tendenza media un po' più bassa pari al 2% su una finestra pari a 40 giorni ecco che adesso appaiono di nuovo delle finestre interessanti ma cos'è accaduto in questo segmento verde che vedo qua è accaduto che nel 65% di queste 14 annate beh questo 65% di queste 14 annate ha registrato ogni volta ogni singola annata un movimento maggiore del 2% in questa finestra temporale di almeno 40 giorni e così via per interpretare anche quella rimassista quindi questa flag che mi introduce ad un'analisi che io posso fare di quella tendenza stagionale molto più selettiva molto più restrittiva un'altra delle cose molto interessanti che abbiamo introdotto qui nel data analyzer è questo pulsante test e permette di fare che cosa? di fare un backtest quindi cliccandoci sopra io qua posso andare a indicare direttamente nel data analyzer il momento di partenza e di arrivo quindi andiamo ad esempio a testare la finestra stagionale questa qua di alzista io potrei partire ad esempio da qui che è intorno al 15 di febbraio e portarla avanti fino al 23 di aprile quindi andiamo a prendere dal 15 di febbraio e la portiamo avanti fino al 23 di aprile è una finestra rialzista quindi possiamo lasciare qua flegato long e possiamo dirgli execute quello che ha appena fatto lui è farci un backtest istantaneo quindi sono le varie annate 19, 18, 17 giorno l'ingresso giorno di uscita chiaramente lui entra ed esce sempre nella prima giornata borsistica che trova in concomitanza delle indicazioni che ha messo io quindi avendo messo io il 23 la giornata borsistica più vicina non la prima ma la più vicina che lui trova in questo caso era il 22 qui era il 21 qui era il 21 qui era il 22 eccetera il 15 lo trova direi tutti gli anni tranne questo che è dovuto fare l'operazione invece il 16 questo è il prezzo di ingresso presente sul grafico in quel momento questo è il prezzo di uscita e questi qua sono i punti che ha guadagnato e perso la mia strategia su questa finestra stagionale e questo invece in termini percentuali quanto quei punti hanno effettivamente che valore avevano rispetto al valore del crude oil in quel momento e qui ho la possibilità di graficare l'equity line calcolata in punti piuttosto che in variazioni percentuali li mettiamo in entrambi i casi perché graficare semplicemente l'equity line come variazioni in punti non ci dà un'indicazione corretta sull'affidabilità sulla tenuta di quella finestra di quella tendenza stagionale è ragionare in termini percentuali che può darci questa indicazione perché ragionare in punti per uno strumento come il crude oil che ha avuto effettivamente delle quotazioni che hanno oscillato su valori davvero molto importanti poi magari su valori molto bassi ragionando in punti andrei a sommare lavorando sempre con un contratto crude oil dei momenti in cui mi sono trovato su uno strumento molto volatile che ha fatto un guadagno di 24 punti con altri momenti in cui il guadagno è stato appena di un punto quindi per evitare di sommare dei risultati che effettivamente ho registrato quando il crude oil aveva dei valori completamente diversi dai 50 punti di questo momento i 120 i 150 eccetera per evitare di sommare robe del genere allora si può ragionare in termini percentuali che è una maniera per rendere un pochino più confrontabili caso per caso quello che è successo in queste singole stagionalità quindi per rendermi meglio conto della tenuta di quella finestra stagionale per evitare che una quotazione troppo alta e quindi un profit loss in punti possa andare ad annacquare quelli che sono stati magari altri risultati ottenuti in altri momenti storici la variazione invece percentuale mi permette di fare un pochino più di pulizia di avere un'indicazione più corretta l'abbiamo messa entrambe uno può decidere su quale andare a orientarsi ho chiaramente la possibilità di limitare il numero di annate su cui voglio effettuare questo backtest posso fare backtest anche di finestre short qui ho le metriche riassuntive quindi in questo caso ho individuato una finestra stagionale che sto analizzando dove ho un 78% di annate profittevoli un rapporto win-loss ratio favorevole pari a 1,75 la variazione percentuale media intorno a un 6% ho un 11 annate favorevoli 3 sfavorevoli e la media vincente e perdente per il mio trade potrei anche filtrare questa analisi solamente per le annate positive piuttosto che per le annate negative cosa si intende annate positive e negative si intende se l'annata precedente alla mia analisi si è chiusa positiva o negativa quindi se io sono nel 2019 come si è chiuso il 2018 se il 2018 si è chiuso positivo io fleggando questa condizione allora nel 2019 lui fa il trade ma se invece si è chiuso negativo quell'anno nel 2019 non avrebbe fatto quel trade quindi è un filtro che dice guarda come ha chiuso l'anno precedente a quello del test se ha chiuso positivo e questa flag è attiva consideralo se ha chiuso negativo non considerarla posso più chiaramente ribaltare l'analisi e guardare di lavorare solamente dopo le annate negative o dopo come nel caso precedente quelle positive ma è un primo filtro che trovi qua per provare magari a testare al volo questa idea e vedere un po' cosa succede vedi che è tutto istantaneo immediato e questa è la prima novità diciamo che abbiamo inserito cioè la possibilità di poter effettuare molto rapidamente un backtest di quella stagionalità qui puoi misurare e isolare graficamente qua davanti a te solamente le finestre più attendibili stagionali più attendibili con questo secondo check molto più selettivo che va a guardare cosa succede in ogni singola annata e poi qui la possibilità di fare un backtest molto rapido di quella stagionalità bene tutto questo è stato replicato anche qua se vado a prendere week per quanto riguarda le stagionalità quelle che vengono chiamate gli intraday seasonal o meglio le stagionalità infrasettimanali questa è la tendenza media dei prezzi del petrolio durante la settimana borsistica lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato sabato non c'è in realtà questo sunday è perché il mercato quando riapre alle 18 della domenica sera c'è ancora un pezzettino prima di arrivare a mezzanotte quindi il sunday la domenica notte è la tendenza media dei prezzi di queste poche ore per poi ripartire invece con la giornata di lunedì eccetera quindi quella blu è la chiusura della sessione borsistica quella rossa è proprio la mezzanotte invece qui allo stesso modo posso andare a osservare cosa è successo sull'intera finestra stagionale piuttosto che cosa è successo negli ultimi ipotizziamo 10 anni prendiamo ad esempio una finestra più ristretta e quello che potrei andare a fare è andare di nuovo in questo caso a cercare se esiste un movimento durante la settimana in certe fasce orarie in certe giornate sufficientemente affidabile per darmi un piccolo edge da poter sfruttare qui il mio consiglio è partite da isolare di piccoli edge qui è difficile che troverete mai per uno strumento un 65% di osservazioni concorde qui non stiamo parlando di 14 annate qua stiamo parlando di 10 annate dove ogni annata è fatta da 52 settimane quindi se noi guardiamo cosa è successo fra la mezzanotte e luna del lunedì beh questo vuol dire avere qui dentro in questa media qua in questo segmentino avere la media di 52 settimane di quello che è successo in quelle 52 settimane ogni lunedì per le ultime 10 annate sono 520 punti ora chiedere di trovare degli edge così capienti come un 65% di volte e con tutte le caratteristiche poi che adesso andremo a delineare è qualcosa di molto difficile da individuare partite da un banale 50% o meglio da un 51% quindi partiamo da edge davvero molto piccoli il movimento percentuale non potrebbe più essere il movimento che abbiamo su una finestra stagionale di 40 giorni ma dovrebbe essere un movimento percentuale più simile a quello che è lago su questa scala quindi potrebbe essere uno 0.05% movimento medio e su una finestra temporale supponiamo di 4 ore quindi cominciamo a lavorare più o meno su una finestra di 4 ore potrei rimpicciolirla potrei ingrandirla però già vedo sul grafico che iniziano a apparire delle aree che corrispondono un po' alle caratteristiche che vado a indicare qua se divento più selettivo vado a un 52% ecco che spariscono alcuni segmentini rimangono solamente alcune aree questa ribassista del lunedì c'è una finestra abbastanza breve di alzista qua il martedì il giovedì nuovo diventa ribassista il venerdì c'è una tendenza a scendere nella prima parte della giornata e a salire nella seconda parte della giornata allo stesso modo posso diventare più o meno selettivo e posso anche andare a richiedere di nuovo con questa flag questa significance on components posso andare a richiedere che questo movimento pare lo 0.05% dei prezzi si sia verificato su ogni singola rilevazione quindi su quelle 520 rilevazioni voglio vedere che almeno il 52% di queste rilevazioni abbia registrato un movimento pare almeno a questa magnitudo se io riduco un pochino le mie aspettative di movimento ecco che di nuovo vedo che appaiono chiaramente quando ragiono sulla tendenza media potrò usare un certo valore in questo caso se io vado a ragionare invece sul movimento che c'è stato ogni singola annata le condizioni diventano molto più selettive restrittive devo cedere qualcosina un po' sul movimento quindi voglio osservare sulla maggioranza di queste annate un movimento razzista ribassista ma mi devo accontentare un po' di una magnitudo un pochino più tranquilla allo stesso modo sarebbe rimasta questa guardate con la magnitudo quello un po' più importante allo stesso modo posso effettuare un backtest in questo caso il backtest vedete prevederà adesso impicciolisco un po' le finestre sto usando una risoluzione che non è proprio quella più indicata il backtest di nuovo mi permette di indicargli qual è durante la settimana la giornata e la fascia oraria in cui voglio entrare in posizione uscire dalla posizione e lui fa il backtest prendendo tutte le occorrenze quindi quei 520 se prendo gli ultimi dieci anni quei 520 trade che dovrebbe aver fatto e qui il bilancio anche il riassunto di quello che è successo anno per anno prendiamo una finanza stagionale teniamo via questo flag prendiamone una ad esempio questa ribassista del lunedì quindi partiamo dalla mezzanotte del lunedì andiamo avanti fino circa alle 10 del lunedì e vediamo cosa succede quindi prendiamo dalla mezzanotte quindi in questo caso le 00 andiamo avanti sempre fino al lunedì alle ore 10 questa è una tendenza a ribassista quindi abbiamo indicato gli short in questo caso e andiamo a indicargli che la stiamo testando solamente sugli ultimi dieci anni lasciamolo calcolare adesso stai effettuando il calcolo qui impiega un pochino di più perché in realtà non è più un backtest fatto su 12 trade come nel caso precedente della stagionalità qui i trade sono un po' di più quindi la tendenza era short diamogli solamente le ultime dieci annate e andiamo a indicargli qua dall'uno alle dieci eccolo qua quello che vedo qui cos'è sono i vari trade che ha fatto quindi partendo dall'uno partendo dalla mezzanotte a voi la scelta chiudendo alle dieci il trade il prezzo di ingresso il prezzo di uscita quanto ha guadagnato in punti quanto ha guadagnato in termini percentuali sul valore in quel momento del prezzo e quello che è successo anche su base annuale in termini di guadagno di perdita appunto percentuale che si è verificata qui come al solito le metriche di assuntire questa è la mia equity line che posso sempre andare a visualizzare a graficare in percentuali piuttosto che in punti le metriche mi dicono che la tendenza a ribassista che c'è il lunedì questa qui è una tendenza che ha un'affidabilità pari circa a un 55% delle volte con un leggero vantaggio in termini di win-loss ratio non è qualcosa di incredibile probabilmente si può ottenere qualcosa di meglio andando ad attivare uno dei filtri che abbiamo visto prima in questo caso però i filtri sono un po' di più perché potrei filtrare questo risultato operando solamente dopo una settimana positiva ma anche dopo una settimana negativa o piuttosto dopo una settimana con compressione o dopo una settimana in cui ho osservato un'espansione dei prezzi per compressione e espansione qua si fa riferimento al rapporto che c'è fra la chiusura e l'apertura quindi il corpo della candela rispetto al range della candela settimanale della settimana precedente c'è compressione se abbiamo il corpo della settimana che è inferiore a un terzo del range c'è espansione se il corpo della candela settimanale è maggiore di due terzi del range ok? fino ad arrivare a coincidere poi anche con il range potrei andare a osservare se e a lavorare solamente nelle settimane successive a quelle che hanno chiuso nel terzile superiore piuttosto che invece quelle che hanno chiuso nel terzile inferiore vedi ogni volta vedo quello che cambia qua nella mia equity line che cos'è il terzile il terzile vuol dire dividere la candela settimanale in tre parti il terzile superiore vuol dire osservare una chiusura della settimana precedente nel terzile di quella candela maggiore quindi nella previsione in tre parti nella parte quella superiore terzile inferiore se i prezzi hanno chiuso giù in basso deboli nel terzile nel terzo inferiore la prima batteria di feed che abbiamo implementato in queste release che però può esserci utile per scremare subito effettivamente se ci può essere qualche condizione più interessante o meno interessante da abbinare a quel tipo di a quel tipo di bias di tendenza tendenza stagionale in realtà non è più un termine che si usa in questo caso perché diventa una tendenza più che altro l'infrasettimanale media dei prezzi non è più una stagionalità lavoriamo su un time frame troppo ristretto adesso per parlare di stagionalità però vedete come in questo caso sia possibile di 4x4 andare a testarlo e andare a capire se esista a colpo d'occhio insomma un qualche tipo di filtro che possa essere più premiante in questo caso sembrerebbe che un filtro ad esempio quello di andare a lavorare dopo una settimana che chiude negativa sembrerebbe essere quello che magari paga un pochettino di più che migliora un po' le metriche ma è solamente un esempio vi invito un pochino qui a lavorare un po' a smanettare per effettuare altre analisi se avete avuto modo di vedere di recente un articolo che ho caricato sul sito beh quell'articolo mostravo un trading system sul petrolio che è stato scolpito esattamente con questa procedura questo è un trading system vi riporto un attimo l'articolo che trovate qui dentro a QtLab questa è la home page magari quella che potreste osservare voi in un momento successivo non riporta questi ultimi articoli ne riporta altri più recenti però c'è un articolo chiamato un trading system sul crude oil a codice aperto qui trovate proprio se volete la possibilità di andare a esaminare passo per passo come sono arrivato a codificare questa strategia sul crude oil come ho individuato questi bias e gli alzisti e gli alzisti durante la settimana questo è il codice della strategia questa è l'equity line che produce ed è la stessa che ho voluto riportare qui sotto su questo grafico qui direttamente in 3 station insomma il codice della strategia è questo qua non è altro che una concatenazione di questi bias infrasettimanali che avete visto qui direttamente con il data analyzer leggendo l'articolo magari riuscirete un pochino a riordinare un po' le idee cosa manca ancora che abbiamo aggiunto qui nel data analyzer beh manca un'ultima cosa che è questa cioè la possibilità di andare a lavorare direttamente in maniera nativa su degli spread se voglio lavorare su uno spread devo in primis decidere quali sono le due entità di cui voglio andare a calcolare il differenziale su cui puoi andare a effettuare analisi come ad esempio la presenza di stagionalità o di bias quindi la prima cosa da fare sarà chiarirsi un po' le idee su che tipo di contratti voglio andare a spreadare quindi potrei ad esempio iniziare a lavorare con dei contratti continuous quindi andare ad esempio a fare uno spread fra il contratto future continuous di wheat contro corn però potrei anche fare qualcosa di più preciso di più raffinato ma da maneggiare con maggiore cautela che potrebbe essere il contratto continuous del wheat però ad esempio sulla prima scadenza concatenando quindi la prima scadenza e rollando tre giorni prima quello che invece è il first notice day senza applicare alcuna rettifica questo è il ticker che viene usato in tre station per fare riferimento al contratto wheat del fomento continuous prima scadenza rollato sulla nuova scadenza tre giorni prima il first notice day e quest'anne finale significa senza alcuna rettifica potrei volerlo spreadare al contratto del corn sempre a 103 nn oppure potrei voler lavorare ad esempio uno spread intra market questo è un inter market come esempio potrei voler lavorare uno spread intra market e ad esempio fare ad esempio il crude oil cl e andare a lavorare ad esempio la quarta scadenza quindi 403 x c significa in questo caso il contratto future continuous del crude oil dove lavoro sempre la quarta scadenza e vado a rollarla tre giorni prima l'expiration con la correzione quindi applicando quella rettifica per absolute difference per avere un contratto continuous senza i buchi se avessi voluto usarlo senza rettifica avrei potuto usare ad esempio xn e avrei potuto spreadarlo contro un'altra scadenza sempre del crude oil però potrebbe essere la prima scadenza e creare quindi uno spread fra il contratto della quarta scadenza è il contratto della prima scadenza sempre sul crude oil quindi una volta che mi sono chiarito le idee su quello che è il tipo di spread e su cui voglio ragionare e si usano dei contratti future continuous differenti in base al tipo di analisi che si desidera fare se volete approfondire meglio queste cose c'è una giornata che si chiama spread trading system in cui facciamo un po' di lavoro proprio per comprendere bene quali sono i contratti da utilizzare per poter lavorare su grafici spread vi dicevo con tree station è abbastanza semplice basta andare a prendere una qualunque serie storica fare tasto destro format symbol e qui andare in look up a scegliere quello che è il nostro custom future eccolo qua questo è il custom future del crude oil qui ho le varie scadenze che posso andare a concatenare posso scegliere sulla scadenza più vicina piuttosto che la seconda la quarta e andare a decidere il rollover trigger cioè il momento in cui andare a passare sulla scadenza successiva quindi fare scattare il rollover e qui posso scegliere di lasciarla non aggiustata oppure di aggiustarla per absolute difference questo è in estrema sintesi il pannello in tree station che ci permette di caricare al volo in pochi secondi la serie storica future come la vogliamo noi per poi andare a salvarla e darla in pasto ad ad analyzer io l'ho già fatto qua di esportare un paio di serie sugli agricoli ad esempio qui ho esportato il wheat quindi il frumento con un rollover previsto tre giorni prima il first notice day contro corn sempre tre giorni prima il first notice day non rettificate quindi possiamo partire ad esempio dal wheat e caricando il wheat su data analyzer adesso dovrò semplicemente andare ad aprire quel pannello che si chiama spread per andare a caricare la seconda serie storica da spreadare rispetto al wheat che è appunto il corn qui pannello spread vedete ho già caricato il wheat adesso devo semplicemente caricare il corn chiaramente sempre dello stesso tipo quindi prendo il 103nn e quello che vedo qua in nero è il mio spread posso come sempre andare ad agire precisando ad esempio quello che è il valore per punto potrebbe essere utile avere un'indicazione del valore per punto da utilizzare se è differente da una serie all'altra quindi dovesse fare uno spread fra crude oil e eating oil sarebbe necessario andare a ragionare su questo spread finale in dollari valorizzando la quotazione per punto del crude oil per il suo valore per punto stessa cosa per l'eating oil per il natural gas per quello che vorrete andare a lavorare in spread contro il crude oil nel caso degli agricoli posso non fare anche nulla perché in questo caso hanno entrambi lo stesso valore per punto che è 50 dollari però potrei volere ad esempio dire voglio bilanciare un pochino meglio questo spread e quindi voglio lavorare con 3 corn contro 2 wheat quindi una maniera per riportare un bilanciamento più corretto un pochino più neutrale rispetto alle dimensioni dei contratti oppure potrei lasciarlo uno contro uno come si fa invece di solito quindi scelgo come andare a costruire il mio spread scelgo se andare a ragionare in punti piuttosto che in dollari incontrando il valore per punti in questo caso vedi che stiamo ragionando in dollari non più in punti e una volta che ho fatto questo lavoro posso andare a dirgli di esportare il mio spread lo andiamo a esportare io qua ce l'ho già codificato lo vado a sovrascrivere come v-c 103nn mi ricordo in questo caso quindi la codifica che ho usato quindi quel 103nn per entrambi i contratti era uno spread a 20 minuti come sport quindi potevo anche fare un'analisi di tipo bias su questo spread 20 minuti è perché è un divisore della sessione degli agricoli a questo punto vado a salvarlo e sono pronto col data analyzer a importarlo nuovamente qua dentro quindi questo è il mio spread che potrò importare di nuovo qua in data analyzer ed effettuare tutte le analisi che abbiamo visto in questo video che è possibile effettuare usando data analyzer però questa volta c'è un grafico che sarà invece lo spread fra wheat contro corn quindi ad esempio dovrò sempre indicare l'orario di chiusura della sessione in questo caso sono le 13 e 20 quindi basta mettere le 13 il big point value nel caso degli agricoli è 50 visto che io ho esportato in punti ecco una cosa un'avvertenza importante insomma un accorgimento importante è ogni qualvolta io carico una serie storica che ha un valore che inizia a essere prossimo allo zero o ascilla intorno allo zero per evitare che ci siano dei calcoli non corretti nell'analisi di stagionalità dobbiamo applicare uno shift up quindi una traslazione verso l'altro per allontanarci dallo zero in questo caso il problema c'è perché se guardate qua sotto va leggermente in negativo per tornare poi in positivo quindi noi applichiamo uno shift di 100 così siamo sicuri insomma che i prezzi non vanno mai sotto a zero questo non è un infice in alcun modo l'analisi per come ragione della televisor ma semplicemente ci permette di scostarci un po' di allontanarci un po' dallo zero a questo punto posso fare la mia classica analisi basata sulle stagionalità come in questo caso quindi andare a individuare se esistono finanze stagionali più o meno affidabili ce n'è una abbastanza interessante estiva per questo spread a rialzo posso impostare di nuovi filtri come ho visto prima posso effettuare tutte le mie analisi anche di carattere statistico e poi posso anche volendo andare a creare un nuovo spread partendo da questo stesso spread e andando a sottrarre un altro strumento quindi se volessi creare uno spread da 2-3-4 strumenti potrei farlo andando a crearne in sequenza come in questo caso chiaramente allo stesso modo potrei anche analizzare io ho già esportato uno spread intra-market in questo caso sarebbe uno spread sul crude oil dove vado a lavorare sul differenziale fra la quarta scadenza e la prima scadenza senza applicare rettifiche questo sarebbe il grafico di questo spread sul crude oil di nuovo devo applicare un qualche tipo di shift perché questo balla molto spesso intorno allo zero e mettere qua un valore corretto che sono le 17 come radio di chiusura però anche qua potrei fare la mia analisi basata sulle stagionalità o piuttosto che sui bias andare a ragionare un po' su questo tipo di spread che è fatto fra due scadenze crudole è un classico spread intra-market questo è un po' per esaurire la panoramica delle nuove funzionalità che abbiamo introdotto dentro Data Analyze che incluso ha anche la possibilità vedete di poter lavorare in maniera nativa direttamente su degli spread creandoli direttamente incrociando due serie storiche sia di tipo intra-market inter-market o di qualunque tipo dato che Data Analyzer è aperto al caricamento e all'elaborazione di qualunque tipo di serie storica spero che questo video vi sia piaciuto spero che abbiate visto qualcosa di interessante in Data Analyzer prossimamente andremo anche a vedere le altre funzionalità le altre moduli che fanno parte della piattaforma strategy lab ma questo era un po' il punto di partenza ovvero l'analisi della serie storica da cui puoi trarre idee e spunti per poter creare e costruire delle strategie di trading meccanico a questo punto costruite quelle strategie diventerà interessante con strategy builder effettuare delle analisi per misurarne la robustezza per capire se sono realmente affidabili e poi con portfolio builder andare a creare ad analizzare a bilanciare correttamente dei portafogli a ruotarli a poter fare dei backtest anche molto sofisticati sui portafogli per poi poterli seguire nell'operatività live da Luca Giusti grazie per l'attenzione e appuntamento a uno dei prossimi video